Le recenti previsioni del nostro centro studi, che indicano una ripresa del PIL non prima della fine di quest'anno, non lasciano peraltro spazio a facce gli ottenismi in Italia e nel mezzogiorno. I prossimi mesi saranno i mesi più duri, i mesi che probabilmente segneranno il punto più basso dell'economia del nostro Paese e del mezzogiorno dall'inizio della crisi. Quindi ci aspetta un anno difficile, in cui più che mai diventa crociale la sfida per la crescita, per la quale troppo poco si è fatto nei mesi scorsi alle prese con la messa in sicurezza dei conti pubblici. Però, come ho detto più volte, io rimango ottimista. Sono convinto che l'Italia abbia le risorse, la potenzialità e le capacità per venirne fuori.